Weekend di riposo per l'Amen Scuola Basket Arezzo dopo il match con il basket asciano dell'ex coach SBA Massimo Bini. Giovedì sera, infatti, nella cornice del Palace Portestra è andata in scena la seconda amichevole stagionale per la squadra di coach evangelisti. La partita si è giocata su cinque quarti consentendo ad entrambi gli allenatori di effettuare troppi esperimenti tattici coinvolgendo tutti gli uomini a disposizione. Dopo questa partita l'Amen avrà qualche giorno di riposo prima di riprendere la preparazione in vista della prossima uscita in programma mercoledì 22 sul campo del Todi formazione di serie C-Gold.